Un'altra cosa. Sì, c'è l'unità che si va venire in un zarrato. Un'altra cosa che si va venire in un zarrato, un'altra cosa... Non è quello che si è morto. Sì, è un incidente. Si dice che sono fa, nemmeno. Questa è una cosa che si fai? Questa è una cosa che dà? E' un esame. Sarà il video che lo vedete. Gisuf che la sua testa è assai dentro. Non si capisce. La sua testa è assai dentro. Ma si chiama un bel po' che succede. Un bel po'. Vedi quella fase FG? Non si chiama la mia rete. E allora se stai morto arriverà per forza? Per forza? Per forza. Non è che stanno prendendo l'acqua. Sì. E vedi questo è un altro casino. Eh no vedi. Questa è una doppia forza. Vedi? Una doppia forza. Un momento che mi fai, si mette. Si mette. Non sento di tasse la vostra. La forza mica c'è da un incidente. Non sento di tasse la vostra. Sì. Non sento di tasse la vostra. Non sento di tasse la vostra. La nostra pericolazione è stata prontata per i miei. un'ambulanza da dove deve passare, ma stanno già i autori Siamo sempre da fronte, ma si sentono tra buoni, come cacchio Ah, questo deve passare, vai dentro C'è da dove passare? C'è demore Eh, se non mi ha morto risciutendo pure dopo Sì, sì Ma la mura è già stata demore Sì, ma sicuramente stiamo muri, perché stiamo in casa No, a forza, insomma Mamma mia Sì, tu fai da parlare? Di chi stanno a parlare di tipo? Sì, vai di genere Non c'è, chiaramente Questa è stata Ma si è arrivata l'ambulanza, è da buco per succedere Eh sì Sì, è l'ambulanza, non c'è per venire i valutini che stanno sui casi Quindi potrò venire il troppo, però si Perché è una forza d'emergenza o con voi, se dire Ma come? Ma fai scopo fatti i succisi, quindi non riesce a riuscire a buco Ah beh, in questo caso, non devi venire Eh, in questo caso, siamo qua e tu Apri di qua e ti fai la leggerita dopo Poi ci vuole l'alicotterà No, no, in teoria, devo lasciare lì per una forza d'emergenza Non posso occuparla Là sta lì, per quello là è occupata E vedi qua finisce la cosa Fino a due sacco